Domenica 25 maggio urne aperte per scegliere i nuovi sindaci ed eleggere i consigli comunali in nove comuni del Casentino. La partita più incerta è quella di Subbiano. Sono addirittura cinque i candidati. Nicola Nasca è appoggiato dalla lista centrosinistra per Subbiano, mentre la lista prima Subbiano appoggia Vasco Bobini. Si pone in continuità con la precedente amministrazione invece Antonio De Bari con la lista per Subbiano. David Faltoni è il candidato del Movimento 5 Stelle e Stefano Lavorca della lista di comunità per Subbiano, appoggiata da Partito Democratico e Partito Socialista. Bibbiena con i suoi 12.000 abitanti è il comune numericamente più importante fra quelli che vanno alle urne in Casentino. Qui i candidati sono tre. Daniele Bernardini, lista civica Bernardini, Pietro Salvatore Pennisi del Movimento 5 Stelle, Paolo Volpi della lista centrosinistra Bibbiena. A Castelfo Cognano sfida due tra Massimiliano Sessini della lista Affare Comune centrosinistra Castelfo Cognano e Lorenzo Ricci della lista civica Castelfo Cognano. Due candidati anche a Castel San Nicolò. Francesco Brunelli della lista Per Cambiare e Paolo Agostini insieme per Castel San Nicolò. Nonostante Chitignano sia il comune più piccolo ad andare alle urne, la sfida si preannuncia particolarmente infocata. A contendersi la poltrona di sindaco sono Lucia Tantidi insieme per Chitignano e Valentina Calbi con la lista Per Chitignano. A chiusi della Verne i candidati a sindaco sono Giampaolo Tellini e Claudio Loddi. A Poppi sfida tra Carlo Toni, Poppi nel cuore e Sara Buricchi, lista civica Poppi libera. Per la prima volta dalla fusione il comune di Prato Vecchio Stia è chiamato a scegliere il sindaco. Sono tre i candidati. Nicolò Caleri, un ponte verso il domani, lista futura. Filippo Berti, libertà e partecipazione e Anselmo Fantoni, costruiamo il futuro. Infine a Talla, partita due tra Eleonora Ducci, lista per Talla e Francesco Rocchio, tradizione e progresso.